Noi siamo nati come l'anoteca prodotti tipici 11 anni fa poi ci siamo trasformati circa 6-7 anni fa in wine bar quindi tutto ciò che vendevamo volevamo farlo assaggiare quindi preparavamo degli aperitivi abbiamo cominciato con degli aperitivi rinforzati mia moglie cucinava poi 5 anni fa abbiamo trasformato il tutto in trattoria conservando sempre un negozietto di prodotti tipici relativamente però con la madre che è cucinata a 40 anni insieme a mia moglie loro le chef e in più una squadra perché siamo oltre 15 persone abbiamo conservato tutto il prodotto del territorio quindi a chilometro zero selezioniamo delle aziende, la pasta che usiamo è la pasta Benedetto Cavalieri, Stifanelli la mia socia fa dei ravioli ripieni, la pasta della tria, le orecchiette sono tutte fatte in casa giornalmente burrata, gli ambiri burrata, il baccalà con le patate con la cipolla rossa etropea i ravioli ripieni con la spicola, tutti i prodotti particolari la carta di vini, abbiamo 180 etichette di vini, tutte salentine a tutti i prodotti